Questa è la DS Drum Venom Limited Edition, quindi un'edizione limitata, ci sono 32 modelli solamente di questa batteria e oggi voglio spiegarvela in modo super pratico, voglio farvela sentire perché ha un po' di cose veramente fighe, suono, finitura, l'avete già visto in questo pezzettino suonato, peso, trasportabilità, facilità di accordatura, ci sono un botto di cose fighe di questa batteria, quindi voglio che questo video sia proprio bello pratico, tanto suonato, quindi vi parlo un po', ma suono veramente tanto anche su una canzone, eccetera. Sono partito di qua, dallo studio, sì, dallo studio, da il salotto di Casa Mignan per spiegarvi un po' come funziona, quindi oggi sarà un video un po' in salotto, un po' in studio, principalmente in studio perché suoneremo tanto tranquilli, ma di base voglio spiegarvi il perché ho portato questa batteria sul canale. Qualche tempo fa, qualche settimana fa, sono andato al DS Day, cioè l'Open Day di DS Drum. In questo Open Day c'erano molti batteristi che suonavano, tra cui B-Dog, Carmine Landolfi, Enzo Ugello, Donald Renda, eccetera, eccetera, è stato fighissimo, c'è stata tutta una parte di Factory Tour, quindi in azienda proprio in cui Luca Di Orsola di DS spiegava come vengono costruite le batterie, i legni, eccetera, quindi veramente molto molto interessante e i batteristi che suonavano all'interno del DS Day suonavano la batteria che avete appena visto, quindi alla fine della giornata ho preso Luca Di Orsola e gli ho detto, ascolta, quella batteria è molto bella come finitura, il suono sembra incredibile, voglio portarla sul canale, quindi gli ho detto assolutamente mandamene una di queste 32, tienimene almeno una per poter fare un video e poterla far sentire tutti, ovviamente trovate tutte le info qui sotto in descrizione, se vi piace ovviamente dovete cercare di fare in fretta perché appunto l'edizione è limitata, quindi non voglio spendere altro tempo in chiacchiere ma voglio farvela sentire subito, quindi sigla e poi andiamo alla la batteria, la suoniamo e la sentiamo. Partiamo parlando di quello che salta subito all'occhio di questa batteria, a parte la finitura ovviamente che ho detto già prima, l'abbiamo già parlato, è veramente molto 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 bella, questione fusti e soprattutto non tanto diametri perché abbiamo cassa da 22, tom da 10, tom da 12, timpano da 16, ma soprattutto per la questione profondità, perché le profondità sono molto meno profonde rispetto alle solite batterie, di solito abbiamo la cassa 22x18, qui è 22x14, quindi molto meno profonda, qual è il contrario di profondo? Vabbè, non ve lo dico, ma è meno profonda, tanto avete capito, e questo in realtà dà la possibilità alla cassa di essere molto attaccosa, quindi avere un attacco bello potente e delle basse che esistono, ci sono, ci sono molte basse, ma sono quelle basse che non danno fastidio, nel mix le basse, poi con gli altri strumenti eccetera, danno sempre un fastidio pazzesco, i fonici si mettono lì e tolgono tutte le basse, con queste abbiamo le basse che servono, sentite qua. Chiudo tutti i microfoni, quindi non vi faccio sentire nessun microfono tranne i due microfoni che ci sono, uno dentro la cassa e uno subito lì che fa capolino, tra il dentro e fuori della pelle della cassa. Sentite che è veramente potente, molto potente questa cassa e di basse ne ha un bel po', quindi spinge di brutto, c'è una pelle PowerStruck 3 in questo momento, clear e un cuscino dentro, non troppo grande in realtà che però va a toccare sia pelle battente sia pelle risonante. Per quanto riguarda i tom, stessa cosa, abbiamo 10x6,5, 12x7, 16x14, quindi un po' meno profondi del solito, ma il fatto di essere meno profondi ci permette di avere un suono che è bello fermo e più che altro appunto anche qua ha molto attacco ma è bello fermo, rimane lì, ha un buon corpo anche e boh non so che dire, ve li faccio sentire perché parlano da soli. Grazie a tutti. Sentite il fatto che veramente questi tom suonano proprio bene, cioè sia sentiti dai microfoni senza alcun tipo di mix, di equalizzazione eccetera, allora ve li faccio sentire direttamente come escono dai microfoni, cioè microfonati, suonati, ve li faccio sentire così. Non so dire ma forse è la migliore batteria che abbia mai provato. Comunque alla fine Venom è la stessa serie, stessa tipologia di batterie delle custom shop di S-Dram, ma fatte semplicemente in serie, nel senso che non potete scegliervele col configuratore eccetera eccetera eccetera, ma sono uguali, identiche. Quindi l'unica cosa è che appunto sono già formate, quindi in questo caso avremo 22, 10, 12, 16, opzionale c'è anche il 14. La figata l'avevo già detto nel video, nell'altro video sulla Venom che vi lascio qui sotto, ma ve lo ridico, la figata secondo me di avere delle batterie già fatte e che sono batterie già pensate per poter suonare bene. Cosa vuol dire? Sono delle batterie con dei tamburi già pensati con una tipologia di intonazione. Quindi non siete poi voi, a meno che non siate dei super nerd a dover dire allora metto il 10 per 7, poi il 12 per 8, 7 e mezzo, cosa devo mettere? No, qui è già fatto in modo tale che sia tutto a posto come intonazione. Quindi di base questa batteria qua ragazzi è molto semplice da accordare, perché ho fatto un po' di prove, poi secondo me qui non è tanto la questione accordatura, ma volevo farvi proprio vedere il suono, volevo farvela sentire su una canzone per farvi capire contestualizzata come funziona, ma di base questa è, a parte il suono che è fighissimo, è molto più semplice da trasportare perché semplicemente è meno profonda, meno profonda, non mi viene sta parola. Scrivetemela nei commenti qual è la parola, meno profondo si dice? Vabbè, quindi più leggera, ovviamente, perché c'è meno legno, più trasportabile, facilità di accordatura, vi ho detto, super semplice e quindi raga, cioè è veramente una bomba. Ovviamente vi ricordo che ce ne sono al massimo 32 di queste batterie perché è una limited edition Venom di DS2. Molto bene ragazzi, sono tornato in salotto, spero che questo video vi sia piaciuto, soprattutto spero che questa la batteria vi sia piaciuta, come avete potuto vedere a me ha fatto impazzire, cioè quella batteria che, cioè questa volta la batteria mi ha fatto proprio dire, ah, perché non mi aspettavo certe cose dalla cassa 22x14 che è una cassa strana per la maggior parte della gente perché di solito la standard appunto è 22x18 ma suona di brutto. I ton più piccoli, il timpano da 16 ma comunque un pochettino più piccolo, quindi ha veramente tante tante cose interessanti. Vi ricordo che avete la possibilità di richiedere anche il timpano da 14 nel caso in cui vogliate fare 10, 12, 14, 16. Luca De Orsola mi ha detto che nel caso si può anche pensare di fare l'8 o comunque di aggiungere cose se necessario, se richieste soprattutto, quindi nel caso scrivete tranquillamente a Luca e soprattutto a DS Drum per avere info sul da farsi e tutto quanto. Quindi con questo io voglio ringraziare tantissimo Luca e DS Drum per avermi mandato questa batteria veramente spaziale, fatemi sapere, mi raccomando qui sotto nei commenti, voi che ne pensate, se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, se è la vostra batteria di Sony, se assolutamente non è la batteria che vorreste. Fatemi sapere tutto quello che volete. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale che non ve l'ho detto nell'intro, mi sono dimenticato, ho fatto una cavolata, ma ve lo dico adesso iscrivetevi mi raccomando. Ci vediamo al prossimo video, ciao! 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 Ciao!